Ma lo devo ancora rivedere, il primo gol, quindi ci sarà tempo per vedere il primo gol. Però al di là di tutto siamo contenti di aver fatto il risultato qua a Pescara, che è un campo difficilissimo. Mi spieghi il segreto di questa vostra prestazione costante per 90 minuti oggi, molto bella, complimenti a Ramo. Ma volevamo riscattarci da non un bellissimo secondo tempo contro il Benevento, quindi siamo venuti qua a viso aperto e dovevamo continuare come abbiamo sempre fatto, a creare occasioni, a fare il nostro gioco e quindi ci abbiamo messo tutti noi stessi e sono arrivati i punti. Ne parlavamo anche con il direttore Fabio Lupo, avete chiuso la partita con cinque attaccanti e avete continuato ad attaccare anche dopo il 2-2, rischiando poi nel finale però di prendere il gol del Pescara. Sì, perché volevamo portare il bottino pieno a casa. Ci credevamo anche perché abbiamo creato tanto e fatto due gol, quindi ci credevamo anche a fare la rimonta completa. Ci sono ritrovati i contattaccanti e perché non provarci.